Signori bentornati carissimi nel video recap settimanale della Nipponites Cup Giunta la terza giornata, quindi è una giornata dalla fine Yusuf si ripete con un back to back incredibile, va a vincere anche questa giornata In uno scontro diretto in semifinale importantissimo contro Filippo VGC Se non l'avete visto vi consiglio di andarvi a rivedere il VOD della giornata Perché ci sono uscite delle partite davvero belle Comunque Yusuf va a vincere quindi questa giornata e a prendere 10 punti Nuovo esordiente, Esplode il Sandwich che arriva fino alla finale Il grandissimo Frap Twitch che riesce quindi a portare a casa 5 punti Terzo posto per Filippo VGC E Blinforone nazionale che è una certezza anche lui con 2 punti La classifica ha una giornata dalla fine così la seguente Yusuf 89 21 punti Filippo VGC 16 punti Sarà una lotta a 2 quindi c'è la possibilità solamente tra questi due giocatori Di vincere la Cup nella season di luglio Silver 95 a 7 punti al terzo posto Quarto posto per Zephyro con 6 punti Quinto posto con 5 punti per Broken Soup e The Exploded Sandwich E Limparone con 4 al senso Tutti gli altri Limbo Nights 3 o meno punti Signori non perdetevi martedì prossimo per 21.30 L'ultima giornata è della Limbo Nights Cup di luglio Per scoprire tra Yusuf 89 e Filippo VGC Chi sarà il nuovo VIP e campione del campionato dei salti Beh Altra parte